Buongiorno, sono Marco Fantozzi, sono il responsabile per l'Italia di AIL Utility, una società specializzata nella ricerca a livello internazionale di soluzioni innovativi per aiutare gli acquedotti e i gestori di reti fognari a migliorare le loro performance e diventare più efficienti. All'interno della manifestazione Fare i Conti con l'Ambiente qui a Ravenna, abbiamo organizzato insieme a molte altre aziende leader nel settore di tecnologie e altri relatori nazionali e internazionali una scuola dell'acqua, quindi lo scopo è quello di assistere le utility nel rispondere sempre meglio e con contenuti più innovativi alle esigenze di sostenibilità ambientale, di efficienza e alle necessità di adeguamento alle normative che il regolatore sempre più sta imponendo per spingere i gestori in una direzione di efficienza e di miglioramento. Abbiamo molte utility all'interno del nostro corso, sono estremamente soddisfatto di questa collaborazione che vede oltre alla nostra scuola molte altre scuole dedicate ai servizi idrici, quindi l'accoglienza della città di Ravenna e questo contesto credo che sia stata un'iniziativa di successo e quindi ritorneremo ancora alla Ravenna negli anni prossimi e invitiamo tutte le utility a unirsi a noi. Grazie.